Un libro per l'Europa di Thierry Vissol Bentrovati per il libro della settimana. Questa settimana parliamo un po' di sociologia e di economia. Il libro che vi presento questa settimana è scritto da Aldo Edoardo Cara, si intitola Più ugualianza, più benessere e pubblicato da EDS nel 2014. Allora Aldo Cara, ci puoi spiegare rapidamente il contenuto del tuo libro? Che cosa hai voluto fare e dimostrare? Ho voluto far conoscere le disuguaglianze che ci stanno nella nostra società, il fatto che sono aumentate, ma anche, visto che siamo in una fase di crisi, ho voluto dare un messaggio di non lasciarci prendere dalla sfiducia che non c'è niente da fare, e che c'è la possibilità di attenuare queste disuguaglianze, anche in una fase di crisi. Si tratta, secondo me, di spendere meglio quei pochi soldi che ci sono e che si spendono, di finalizzarli meglio ad alcuni obiettivi di benessere e soprattutto di superare il concetto del reddito e del PIL come unico indicatore, unico obiettivo da raggiungere, ma di guardare al benessere delle persone che è fatto di tante cose, di scuola, di istruzione, di socialità, di rapporti fra le persone, di partecipazione culturale, di ambiente e di paesaggio. Quindi ho voluto far vedere come, se guardiamo queste tante facce della vita delle persone, scopriamo tante piccole disuguaglianze, queste piccole disuguaglianze, come piccola, una a uno possono essere aggredite, soprattutto dove si manifestano e sono più pesanti. Ma consideri anche che si deve anche modificare la politica fiscale, che è estremamente disuguaglianza. Certo, diciamo. Ma che molte delle cose che tu proponi si possono fare attraverso microprogetti che non costano molto. Sì, perché proprio perché sono progetti piccoli e mirati, si possono fare con poche spese, diciamo. L'importante è eliminare magari quei progetti che poi non producono niente e mettere i soldi come investimenti in progetti che producano qualcosa. Per cui la chiave di volta del mio libro è non si fanno progetti generici perché attivano lo sviluppo, si fanno progetti mirati perché c'è un indice che misura qual è la situazione di oggi, che cosa vogliamo realizzare e che configura finanziamenti che sono legati alla realizzazione dell'obiettivo. Se una regione dice voglio realizzare questo obiettivo e lo realizza, il finanziamento che gli si dà diventa finanziamento gratuito. Se la regione non lo realizza, quel finanziamento diventa un credito che la regione deve restituire. Ecco, e quindi vi consiglio vivamente di leggere questo libro Più ugualianza, più benessere di Aldo Edoardo Cara, pubblicato da EDS nel 2014. Un libro per l'Europa di Thierry Vissolo